Un nuovo negozio di coaffer è stato inaugurato a Porto Azzurro, si chiama Venere ed è stato aperto da Ilaria, la titolare che lavora all'interno dell'attività insieme a Sara e Silvia. Acconciature, tagli, tinte e trattamenti vari sono le offerte che differenziano Venere. Un bel negozio di parrucchiera donna uomo, dotato di vari comfort, che bene si legano alla professionalità degli addetti. Il negozio è aperto tutti i giorni, dalle 9.30 fino alle 21, escluso la domenica e lunedì, classici giorni di chiusura per chi lavora nel settore. Le sorprese però non terminano qui. La sorpresa si chiama talassoterapia, un trattamento per la ricostruzione dei capelli, spiega Ilaria. Viene praticata con prodotti naturali, è un trattamento molto efficace contro la caduta dei capelli. Si interviene, continua la titolare nel negozio, anche se i capelli sono disidratati dal sole o stressati dalle varie tinte o da troppi trattamenti o lavaggi frequenti. Venere è l'unico negozio di parrucchiera che offre questo trattamento particolare per clienti che hanno avuto problemi ai capelli, o per coloro che vogliono rivitalizzarli e farli tornare lucidi e splendenti. È un trattamento molto veloce che non porta via molto tempo, spiega ancora Ilaria. In 20 minuti, oltre al tempo classico della piega, la cliente è pronta. Ilaria è anche molto attenta a prodotti che propone. Abbiamo colori a olio, a ferma, diversi dagli altri, una linea molto naturale. Quindi, per coloro che tengono al loro aspetto estetico la salute dei propri capelli, Venere è veramente il posto giusto. Vogliamo ricordare l'indirizzo? Si trova a Porto Azzurro, in via Marconi.